Buongiorno a tutti, sono Sergio Rossetti, componente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Milano. Domani, 8 marzo, abbiamo pensato di festeggiare la festa delle donne ricordando gli esatti 60 anni delle donne e dell'ingresso in magistratura da parte delle donne. Con noi ci saranno delle colleghe che per prime vinsero il concorso in magistratura, delle costituzionalisti, dei colleghi che ci racconteranno come il mondo del diritto è cambiato con l'ingresso delle donne in magistratura e quali sono ancora le strade da fare. E quindi per ricordare e festeggiare insieme l'8 marzo, vi aspettiamo tutti nell'Alamagna a Galli e Alessandrini per ricordare i 60 anni delle donne in magistratura.